la sale è lunga come faccio? aspetta la metti bello perfetto l'avrei fatta per normale adesso come faccio a vedere un attacco tutto quanto? ma vedi io la video no però l'ho fatta lì forza miseria dovevo aver messo queste piccine adesso non l'avevo visto ormai è già dato ormai è già dato scusate questa è l'ultima è già è già è già è già è già è 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 c'è la è è dove sta andando? non ho ancora l'armi non ho ancora l'attaccia ma non ho ancora l'armi no si dico Cosa che sfida? Cosa che sfida? sentito andiamo prima a vedere l'acqua siamo adesso siamo qui e appunto allora due ore fa è stato un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.